Buonasera telespettatori, benvenuti qui a TG Italia, qui con il vostro Alberto Zuppa. Vediamo subito le notizie più importanti della giornata. Torna anche quest'anno il caldo soffocante. L'AFA ha nuovamente investito la penisola provocando a tutta la popolazione italiana i soliti gravi problemi e disagi che il caldo porta con sé. Colleghiamoci subito con il nostro inviato Luigi Bentrovato che si trova a Udine, città che finora ha registrato temperature da record. Allora Luigi, aggiornaci sulle ultime novità. Non devi farlo grondare, basta che sembri sudato. Luigi, Luigi sei in onda. Vengono giù per qua, poi magari qualcuno si ferma davanti alla vetrina. Sei in onda. Sì, grazie Alberto. Siamo qui a Udine per documentare gli effetti del caldo affoso. Sono oltre 38 gradi centigradi. Qui abbiamo un ragazzo, come ti chiami? Alessandro. Alessandro, cosa pensi della temperatura a Udine in questi giorni? Beh, sì, fa molto caldo. Poi vabbè, siamo a luglio, quindi potevamo aspettarcelo. E invece per quanto riguarda i problemi nelle relazioni di coppia, dato che comunque con il caldo il contatto fisico è un po' impedito? Beh, sì, sono problemi. Poi vabbè, io sono single. E invece che mette hai scelto per sfuggire al caldo torrido? Ma io sono stato un paio di giorni in un paesino appena fuori Udine. Ah, un po' di relax in campagna? Beh, sì, circa dalla nonna a fare le compagnie. Ah, bene, da Udine qui è tutto, linea allo studio. Sì, bene, eccoci tornati in studio. Passiamo subito alla prossima notizia. Dopo lunghe ore di attesa, finalmente il vertice internazionale riunitosi presso Parigi ha fatto sapere la decisione che porrà fine al dibattito che da lunghe settimane angosciava la comunità internazionale. Ebbene sì, quest'anno il viola non sarà più di moda. La notizia ha portato un grande shock, soprattutto fra quelle signore e signorine che da lunghi mesi facevano incetta di vestiti viola di ogni genere e sorta per non apparire obsolete al ritorno dalle vacanze estive. Ma veniamo ora alla notizia forse più importante della settimana. Siamo al gossip. Voci di corridoio, alimentate anche dallo scatto di qualche temerario paparazzo, sembrerebbero confermare l'imminente rottura della celebre coppia Brad Pitt-Angelina Jolie. Vediamo la foto che ha confermato la notizia. Come si evince palesemente dalla foto, è chiaro che ormai la passione stia definitivamente scemando tra i due celebri vips. Gli sguardi dei due divergono in una vuota mancanza di interesse reciproco e il baffo austro-ungarico del biondo attore olivudiano tradisce un forte desiderio di indipendenza. È chiaro che entrambe le celebrità siano ormai già proiettate verso l'obaratro di una triste e dolorosa separazione che, siamo certi, non sarà priva di interessanti e scottanti scoop. Bene, siamo quasi alla fine del nostro notiziario, colleghiamoci ora con il colonnello Giordano Senape dell'Aeronautica per vedere le previsioni dei prossimi giorni. Dunque, colonnello, cosa dobbiamo aspettarci dalle prossime giornate? Sì, grazie Alberto. Come avete già detto voi, il caldo è veramente tornato. Le temperature sono ideali per andare in spiaggia e per indossare tutti i vostri indumenti più corti. Peccato per quelli di voi che ancora non hanno superato la prova costume. Per i prossimi giorni sono previste spiagge veramente affollate e un leggero vento di scirocco sulle coste dell'Adriatico. Perciò, attenzione alla sabbia negli occhi. E cosa ci dice di minime e massime? Beh, insomma, sono più o meno le solite, ormai le sappiamo. Bene, ringraziamo il colonnello per le utili informazioni. Siamo ora in chiusura, abbiamo qualche notizia di minore rilievo. Il ministro dell'istruzione ha annunciato nuovi tagli per diversi miliardi di euro al settore. Sono previsti più di 15.000 licenziamenti nell'ambito della pubblica amministrazione e secondo alcuni dati Istat la disoccupazione sembrerebbe in costante aumento, soprattutto fra i giovani, ma insomma non vogliamo annoiarvi con queste inutili informazioni. vi ringraziamo per averci seguiti e vi lasciamo ora la fiction Amore e Bichini. Buonasera telespettatori dal vostro Alberto Zuppa. 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 Portaci indietro, dai, per favore. Dai, dai, andiamo sul tavolino, dai. No, dai, no. No, no, per favore, per favore. Ti prego. No, dai. Per favore, noi siamo tuoi amici. Dai. Dai, vogliamo restare con te. Oh, oh, no, dai. Dai, per favore. Dove vuoi?